Nuovo capitolo dell'indagine sulla morte di Domenico Mauro Antonio, lo studente padovano morto in gita scolastica dopo essere precipitato dal quinto piano dell'hotel Da Vinci di Milano il 10 maggio del 2015. I legali della famiglia avrebbero scoperto attraverso un'ulteriore perizia che il pigiama e i boxer del ragazzo non sarebbero caduti dal quinto piano ma sarebbero invece stati posizionati da qualcuno accanto al cadavere dopo la morte. Secondo l'avvocato Eraldo Stefani lo studente sarebbe stato afferrato per le gambe e tenuto a testa in giù prima di cadere. La consulenza della difesa a cui hanno lavorato un ingegnere esperto in precipitazioni, uno in suoni e un biologo è accompagnata anche da un video che ricostruisce l'accaduto basandosi sulle fratture riscontrate sul corpo di Domenico.